a investire tali somme in questo processo. Spendere in media 7.900 euro completamente al buio quasi è un completo disastro. Ma preso singolarmente può essere un dato che fa riflettere ma parzialmente significativo. Per completare questo dato analizziamo un'altra metrica. Sempre prendendo i 200 questionari come campioni l'attività promozionale ha generato in totale circa 40k di guadagni. Quindi presi tutti i 200 progetti possiamo dire che partendo da un totale di 1.580.030 euro di investimento in attività di promozione c'è stato un ritorno complessivo di 40.000 euro. Quindi in pratica il 2%. Cioè sulla somma totale investita è rientrato solo il 2%. Io mi fermerei già qui. Ok? Sapete bene che chi mi conosce sa molto bene che per me i numeri raccontano la vera storia. Perché poi il resto possono essere chiacchiere ma il numero è freddo, lucido, ti dà una verità obiettiva. Ok? Non basta il numero ma il numero deve essere una bussola. E i numeri in questo caso affermano banalmente che i processi di promozione musicale attuali non sono minimamente sostenibili. Ripeto, il 2%. Ok? Concentriamoci sui due problemi più importanti dei processi di promozione musicale. Il primo è relativo al quando è obbligatorio adottare un processo di promozione musicale. Il secondo è relativo agli obiettivi della promozione musicale. Ok? Il secondo dal punto di vista degli obiettivi sino ad ora non l'abbiamo ancora trattato. Abbiamo parlato di target, abbiamo parlato di pubblico più ampio possibile. Abbiamo parlato del fatto che la promozione musicale viene adottata solo da artisti. Ma tutto ciò scatena anche il concetto di obiettivo di una promozione. Cioè qual è il mio vero obiettivo? E se l'obiettivo è raggiungere un pubblico più ampio possibile, no. La risposta è no, punto. Ok? L'evoluzione del business musicale negli ultimi decenni, in estrema sintesi, ha creato il seguente problema. O opportunità, dipende sempre dagli angoli, no, dalle prospettive e dai punti di vista. E scomparsa quasi del tutto la figura del dipendente. Quindi, cosa succede? Che in passato un professionista del settore musicale, con alte competenze e specializzazioni, aveva la possibilità di avere dei contratti da dipendente con le imprese del settore musicale. Facciamo un esempio. E magari sono un fonico, molto specializzato dal punto di vista tecnico, e le imprese, quindi un'etichetta ad esempio, aveva bisogno di una figura di fonico per tutta una serie di progetti da sviluppare negli anni. Quindi, poteva assumersi il rischio di mettere sotto contratto un fonico, me come fonico, per un progetto su tanti anni, proprio perché sapevano che nella loro catena del valore, quindi nel loro processo produttivo, la figura del fonico era essenziale sempre. Poteva essere la stessa cosa per i musicisti, per arrangiatori, per produttori e così via, ok? Oggi semplicemente non esiste più l'impresa e il dipendente. Oggi tutti devono fare impresa nel settore musicale. Questa è una definizione che noi diciamo spesso, anche nei nostri video. Chiaramente qui entreremo più in profondità, quindi l'obiettivo del dizionario è poi entrare in profondità e capire come risolvere questo problema. Grazie.